Vediamo adesso come caricare, come inserire all'interno i nostri articoli file multimediali. Inseriremo immagini, gallerie di immagini, inseriremo video ospitati direttamente da noi o video che risidono sul popolare sito YouTube. Per provare questa nuova funzione, in questo caso, scegliamo di aggiungere un nuovo articolo. Quindi facciamo clic su Aggiungi nuovo, chiamiamolo proprio Multimedia. Dopo aver dato quindi l'intestazione al nostro nuovo articolo, andiamo a recuperare di nuovo un altro piccolo pezzettino di testo per non rendere il nostro articolo troppo vuoto, troppo scarne, soprattutto per dimostrare le possibilità di impaginazione, di formattazione anche di alcuni elementi multimediali, come ad esempio le immagini. Perfetto. Noterete che sopra la toolbar che abbiamo utilizzato nella lezione precedente c'è un comodo bottone chiamato proprio Carica e Inserisci con un'icona che richiama file di tipo multimediale. Facciamo quindi clic su Carica e Inserisci e cerchiamo di prendere confidenza con questa nuova interfaccia. Come noterete, nelle ultime evoluzioni di WordPress c'è anche la possibilità di fare drag and drop o fare clic su questo tasto Selezionare file per poter andare attraverso il browser del nostro sistema operativo a recuperare i file che ci interessano. Proviamo adesso una funzionalità un po' più amichevole come quella del drag and drop. Ritorniamo sul nostro desktop, mettiamo in evidenza la cartellina con i media che contiene già le nostre immagini, in questo caso angurie, fragole, limoni, un po' di frutta insomma e proviamo attraverso il drag and drop a inserire le angurie. Facciamo clic e trasciniamo fino al campo che ci suggerisce proprio rilasciare qui i file. Aspettiamo il tempo di upload che, in questo caso, il locale è davvero molto veloce e facendo clic per tornare in maniera esclusiva alla nostra interfaccia di WordPress vediamo che l'immagine è stata già caricata. Noterete che già in questa fase abbiamo tante opportunità di personalizzazione e formattazione della nostra immagine. Possiamo dare un titolo che in questo caso è stato desunto dal nome file possiamo dare un testo alternativo molto importante per l'indicizzazione In questo caso specifico il mio consiglio è quello di inserire, quando possibile, sempre il testo alternativo. Il tag alt, infatti, che è quello che abbiamo appena inserito, viene molto valutato in termini di SEO. Andiamo avanti, possiamo inserire una diascalia, una bella fetta di anguria o una descrizione, descrizione, nella fetta di anguria. In questo caso, il campo con la voce URL link non si riferisce al link presso il quale è ospitata la nostra immagine ma bensì al link al quale vogliamo che dopo il click punti la nostra immagine. Quindi, se volessimo che al click su questa immagine si aprisse la finestra di Google è qui che dobbiamo andare a mettere l'indirizzo di Google. In questo caso, preferiamo lasciare non riempito questo campo. Facciamo quindi click su nessuna. Allineamento, anche questo per quanto riguarda l'aspetto di formatazione, ovviamente molto importante. Possiamo scegliere nessuna e quindi verrà scelto il posizionamento definito nella formatazione attraverso il CSS a sinistra, al centro o a destra. In questo caso, scegliamo a sinistra. Possiamo anche scegliere una dimensione miniatura media grande o dimensione reale davvero troppo grande in questo caso. Possiamo fare clic in Inserisci nell'articolo oppure possiamo salvare tutte le modifiche fatte sinora e ripensare per bene a dove o magari come ulteriormente perfezionare questa immagine. In questo caso, sceglieremo di inserire nell'articolo la nostra immagine. Facciamo quindi clic in Inserisci nell'articolo e vediamo la nostra immagine con la nostra didascalia. Ovviamente la didascalia resta ancora modificabile attraverso l'editor dell'articolo. Nel momento stesso in cui attraverso l'articolo selezioniamo l'immagine appena inserita, abbiamo due importanti possibilità, la modifica e quindi la revisione non solo dell'immagine ma di alcuni parametri di quelli che abbiamo anche già impostati inizialmente o l'eliminazione dell'immagine stessa. Andiamo adesso a reimpostare alcuni parametri che magari ci sono sfuggiti in un primo momento o che sono cambiati magari nel corso del tempo. Facciamo quindi clic sul tasto di modifica immagine e, sorpresa, ci ritroviamo in un ambiente che è leggermente differente. È sempre vero che abbiamo alcune possibilità di formattazione però, se notate, l'interfaccia con la quale posso scalare in percentuali differenti la mia immagine è cambiata profondamente. Alcune delle opzioni esistenti in precedenza qui già non le ritroviamo più. In impostazioni avanzate ritroviamo qualcuna di quelle impostazioni che abbiamo visto nel pannello iniziale, nel momento stesso in cui siamo andati ad inserire l'immagine. Chiudiamo questo pannello di modifica relativa per far vedere due cose importanti. La prima è che eliminando eventualmente l'immagine, ci abbiamo ripensato, l'abbiamo eliminata, ma la vogliamo rimettere, quindi riscegliamo di nuovo attraverso il menu carica e inserisci l'interfaccia di tipo multimediale. Non dobbiamo mai ripetere la stessa procedura. Se notate, se è aggiunto un link rispetto all'interfaccia di prima, questo link si richiama galleria. La prima cosa da far notare su questo link galleria è che questa galleria si riferisce solo ed esclusivamente a quest'articolo e non a tutto il sito. Quindi questa è la galleria specifica delle immagini relative a questo articolo. Di conseguenza non dovremo, come abbiamo fatto prima, riprendere l'immagine e fare drag and drop, ma semplicemente possiamo ritornare in galleria, cambiare le impostazioni che avevamo pensato inizialmente, oppure aggiungere tutti i ripensamenti, ad esempio come la dimensione dell'immagine specifica e non in percentuali, come ci appariva soltanto attraverso la modifica dopo l'inserimento dell'immagine. Noterete che qui c'è anche un nuovo link, utilizza come immagine in evidenza. Questo link ha esattamente la stessa funzione di quello che abbiamo visto prima, qui sulla nostra destra, in questo momento opacizzato, nella sidebar dell'articolo. Facciamo come prima, inserisci nell'articolo. E ci ritroviamo come prima la stessa immagine, la stessa idascalia, solo in una dimensione che adesso ci soddisfa di più. Pubblichiamo finalmente quest'articolo. Perfetto, WordPress ci ricorda che l'articolo effettivamente è stato pubblicato e possiamo finalmente scegliere Visualizza articolo. Scegliendo Visualizza articolo entriamo effettivamente nella pagina dell'articolo in questione, ma possiamo sempre ritornare nella nostra home page che adesso presenta ben tre articoli. Una con una bella immagine grande. Il nostro primo articolo è l'articolo Ciao Mondo di default all'installazione di WordPress. Il nostro nuovo articolo con questo file multimediale ha ancora però un limite notevole. Prima abbiamo fatto di tutto, abbiamo quindi utilizzato il tag More per rendere la nostra pagina più compatta e dare effettivamente al visitatore del nostro sito un'esperienza di utilizzo più gratificante, avere la possibilità di leggere quanto più possibile in un colpo d'occhio tutti gli articoli della nostra pagina, comprenderne la natura e poi al caso approfondire. In questo caso con un'immagine così grande diventa davvero difficile, se molti articoli avessero immagini di questa grandezza, leggere e capire la natura degli articoli e poi eventualmente al caso approfondire. Torniamo indietro. Con un paio di clic sul tasto Back ritorniamo al nostro articolo. Potremmo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, cioè fare clic in un punto qualsiasi dove voglio troncare almeno inizialmente il mio articolo, fare clic sull'icona che mi consente di inserire il tag More, aggiornare il mio articolo e nel momento stesso della visualizzazione, vi ricordo che qua abbiamo sempre il dettaglio, dobbiamo fare clic sull'intestazione del nostro sito. Come vedete l'immagine non si vede più. Continuando a utilizzare questa tecnica riusciremo a mantenere la nostra home page davvero più compatta e quindi più fruibile da tutti i nostri visitatori. Molto bene, però adesso potremmo provare a migliorare l'appeal, quindi l'aspetto grafico della mia pagina, non rendendola più così generica. Se fosse una pagina che parlasse solo ed esclusivamente di frutta, anzi una serie di articoli che parlassero solo ed esclusivamente di frutta, potrei cercare di personalizzare la mia pagina proprio basandomi su questa sorta di collana, su questo tema. Andiamo a vedere come. Di nuovo qualche tasto back, oppure più semplicemente facciamo clic sull'icona di WordPress in alto a sinistra sulla nostra toolbar da amministratore. Perfetto, andiamo negli articoli. Qui ovviamente vediamo tutta la lista di nostri articoli organizzati a modo di lista, come può essere ad esempio quella delle email. Facciamo quindi clic su Multimedia e andiamo a rivisitare il nostro articolo provandogli a dare una pilla addirittura migliore. Sulla parte destra abbiamo detto abbiamo la sidebar che dà altre ed ulteriori opportunità di personalizzare gli articoli. Di alcune di queste due parti, come categorie tag, due porzioni davvero importanti della personalizzazione degli articoli, parleremo nelle prossime lezioni. Immagine e Evidenza è invece quello che ci interessa in questo momento. Ricordate sempre che tutta la sidebar, così come tutti gli elementi che hanno in testazione, sono sortabili, cioè posso ordinarli secondo quello che mi è più congeniale con il mio flusso attuale di lavoro. Quindi in questo caso sceglierò di spostare Immagine e Evidenza, o meglio, il pannelletto che mi consente di cambiare le Immagine e Evidenza e che cosa fa l'Immagine e Evidenza lo vedremo tra poco, e quindi sceglie di fare clic Imposta Immagine e Evidenza. Perfetto, potremmo reinserire di nuovo le angurie. Infatti, esattamente come accadeva prima andandola a scegliere attraverso la linguetta Galleria, potrei scegliere di utilizzarla come Immagine e Evidenza esattamente come prima l'ho inserita nell'articolo, con il link immediatamente di fianco. Ma in questo caso preferirò utilizzare un'altra immagine. Quindi richiudo di nuovo la finestra, richiamo di nuovo la possibilità di impostare l'immagine e a differenza di quello che ho fatto prima non farò più drag and drop, ma mi aiuterò con il browser del mio sistema operativo e andrò a recuperare in una cartellina che ho già preparato e che si chiama Media il file campo 2.jpg, perché in questo caso, come già potete intuire dalla miniatura, ho intenzione di usare quel header proprio come area distintiva di una serie di articoli. Facciamo quindi clic su Scegli, aspettiamo il tempo di elaborazione, inseriamo tutte le occorrenze del caso, non troppe, se no ci allunghiamo. Facciamo quindi clic non più sul tasto Inserisci nell'articolo, ma bensì nel tasto Utilizza come immagine in evidenza. Salvataggio in corso, tutto è finito. Possiamo richiudere il pannello, possiamo aggiornare il nostro articolo e possiamo andare a vedere nello specifico, nel dettaglio, questa nostra ultima modifica. Facciamo quindi clic su Visualizza articolo e vediamo che c'è adesso il nostro articolo O. Questo specifico articolo è corredato da questo bel header Frutta. Ritorniamo adesso nella nostra home page principale. Potrebbe sembrare superfluo. In realtà, in questo caso, la nostra immagine in evidenza non è stata aggiunta al nostro articolo. Tutto questo dipende dalla scelta del tema che effettueremo. Alcuni temi prevedono di aggiungere una piccola icona, lateralmente di solito o a mo' di bannerino, dell'immagine in evidenza. Per fare questa differenza utilizzerò un sito interamente realizzato in Word, è un sito di news anche abbastanza importante in Italia. Il post. www.ilpost.it In questo caso, tutte le notizie che vedete qui non sono altro che articoli di Wordpress e quelle che vedete qui a sinistra altro non sono che le immagini in evidenza. Il comportamento delle immagini in evidenza, quindi, dipenderà dal tema che sceglieremo. In questo caso, però, non soltanto mi cambierà l'iconcina che correda il mio articolo, ma in realtà verrà anche riutilizzata all'interno come immagine in evidenza, come accade ad esempio con il nostro tema 2011, che è il tema che stiamo utilizzando, di default in Wordpress.